Dal nord, il nemico stava per abbattersi indistintamente su chiunque avesse una sua attività. Nessuno era al sicuro. Da lontano è arrivata la notizia di una speranza. Ed ecco dunque che oltre mille imprenditori hanno solcato mari. Solo qui, infatti, tra queste antiche mura, si può apprendere l'unica tecnica oscura in grado di trasformare qualsiasi professionista in una vera e propria autorità. L'unica arma che ponga fine a continue e strazianti battaglie sul prezzo e discussioni con clienti che non ti apprezzano. Prima del suo arrivo una terribile minaccia incombeva sui sette regni. Gli imprenditori, ignari, stavano per essere schiacciati da una forza oscura in grado di radere al suolo qualsiasi dominio. Intorno a lui si era accolto un esercito sempre più numeroso con un unico scopo. Riconquistare ciò che gli era stato tolto. Il popolo di imprenditori si strinse intorno a lui, pronto a combattere, e Frank Merenda non li deluse. Condivise con loro i suoi segreti più oscuri e potenti, tecniche di marketing e di vendita che mai avevano visto. Al loro fianco sguainò la spada e li condusse qui, a Barcellona, a venditore vincente 2019, Game of Frank. Ecco a voi, Frank Merenda! Grazie a tutti! Buon Dio! Ok, eccoci, benvenuti a Game of Frank. Un ringraziamento ai ragazzi che sono straordinari, sono bravissimi, bellissimi e incredibili. Pronti per quattro giorni di fuoco nel vero senso della parola? Mi raccomando ragazzi, poche regole igieniche all'interno di questi quattro giorni perché saranno giorni veramente intensi, veramente straordinari e vi invito a fare una cosa importante, nel senso che noi lavoreremo, mentre siamo in sala, ovviamente lavoreremo su tutto ciò che è fondamentale, su tutto ciò che è importante per aiutarvi a vendere in maniera completamente diversa rispetto a come non siate abituati a fare fino ad oggi. Quello che cercherò di fare è di trasferirvi in realtà tutto quello che ho imparato nel corso degli ultimi dieci anni su come si fanno veramente le cose quando si deve vendere. Lavoreremo, sono quattro giorni sulla vendita basata sulla strategia più importante per vendere che è il principio di autorità. Il principio di autorità è un bias cognitivo che nasce su un principio per il quale, e vedremo perché in questi giorni, le persone decidono di compiere delle azioni, decidono di fidarsi di qualcuno, decidono di eseguire delle azioni, decidono di eseguire degli ordini anche quando vanno contro alcuni dei loro valori, per esempio, e ne abbiamo avuto prova per chi di voi ovviamente qui ha letto la 6 letter basata su tutti gli studi, sul nazismo eccetera eccetera, coloro i quali definivano che stavano solo eseguendo degli ordini, è assolutamente vero perché chi riceve delle indicazioni da una persona che gli reputa un'autorità è assolutamente portato a eseguire quegli ordini, a prescindere dal fatto che sia completamente d'accordo o meno, se è completamente d'accordo meglio ovviamente, quindi noi lavoreremo su quello, non è che lavoriamo sulla coercizione umana, lavoriamo invece, lavoreremo su tutte quelle componenti che sono necessarie per smettere di essere il classico venditore agli occhi delle persone e diventare un'autorità alla quale loro vogliano ubbidire tendenzialmente, quindi vogliono comprare da noi invece che da qualcun altro, questo è il passaggio importante, quindi l'autorità è il vero segreto della vendita, non esiste vendita senza autorità, una vendita senza autorità è una vendita a sconto, o c'è l'autorità o ci sono sconti, ci sono problemi di prezzo, c'è diffidenza, c'è paura da parte del cliente e quindi la costruzione dell'autorità è la vera magia che rende possibile in realtà ottenere i risultati che avete visto. Come avete visto sono tutti i ragazzi che sono stati qui sul palco prima e sono veramente persone straordinarie e in nuce nel corso di questi anni hanno appreso come applicare alcune delle cose che vedremo in questi giorni, non tutte, anzi abbiamo tante cose che nemmeno loro hanno visto e che li aiuteranno ancora di più alla fine di questi quattro giorni a ottenere risultati, però avete visto che lavorando sui meccanismi, in realtà in maniera precisa, è possibile prendere delle piccole aziende che fatturano qualche centinaia di migliaia di euro, micro aziende, e poi strutturarle, poi renderle delle SRL, poi sempre più grandi, fino alla creazione anche di SPA, come avete visto, tra le persone che sono qui sul palco. Quindi quello che noi dobbiamo fare tendenzialmente è capire come smetterla di essere normale, smetterla di essere uno dei tanti, smetterla di essere mediocre, smetterla di essere quello che ha dei problemi e no, e ma perché, e il cliente, e il prezzo, ma diventare per i nostri clienti l'unica scelta possibile all'interno ovviamente della nostra nicchia di mercato. E questa cosa è assolutamente possibile farla, e tutto quello che io vi insegnerò in questi quattro giorni è semplicemente una traslazione, cioè è il frutto di tutte le cose pratiche che io ho applicato nel corso di questi anni e ho fatto applicare ai miei soci, ai miei collaboratori, nelle altre aziende, e ai miei studenti. Quindi non c'è niente di quello che vi dico che non sia qualcosa che sia assolutamente provato, testato, verificato, e poi lo vedrete perché vi farò gli esempi su come ovviamente noi abbiamo fatto le cose, su come i miei studenti hanno fatto le cose, per tutta una serie di passaggi vi mostrerò anche degli studi scientifici che sono interessanti, ma è il meno in realtà, quello che per voi è importante è la pratica. E allora quello che vi invito a fare in realtà è, la sera andate a letto presto, cioè non è che siamo a Barcellona andate in balotta tutte le sere, l'ho già visto, cazzo, cioè non va bene quella roba lì, ok? La sera dovete andare a letto, ma in particolare, al di là degli scherzi, vi invito a fare una cosa importante, cioè quando avremo le pause tra uno slot e quell'altro, usatele per lavorare, cioè 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, vi rilassate, andate in bagno, prendete un caffè, mangiate qualcosina, poi passate il resto del pezzettino della pausa che avete a lavorare sulle cose sulle quali lavoriamo, passate il resto della pausa a creare dei gruppetti di lavoro, a scambiarvi le informazioni, ad andare a parlare con uno degli studenti anziani, con uno degli studenti del master, eccetera, eccetera, andate a chiedere consigli su queste cose, ok? Quindi non passate mezz'ora in giro a... non tornate nei cazzi vostri, ritornate in azienda, facebookate, quelle cose lì, cioè fatelo due minuti, ma cercate di stare sul pezzo per quattro giorni, perché se state sul pezzo quattro giorni e pensate a lavorare, uscite da qua con un'esperienza che vi trasforma al cento per cento, se siete un pezzo qua con la testa, un pezzo da un'altra parte, vi perdete un sacco di passaggi importanti, ok? Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Allora, vediamo da dove partiamo, allora partiamo da qua. Quindi parliamo dell'autorità. L'autorità è il segreto ultimo della vendita, cioè non c'è niente più importante nel mondo della vendita, non esiste la persuasione, non esiste il copy, non esistono le tecniche manipolatorie, non esiste niente in ambito di vendita che sia più importante di essere l'autorità del mio settore. Non esiste niente di più importante, ok? Il dato è che quindi il segreto ultimo della vendita è poter dire in un dialogo con il cliente, compra questo, perché? Mi chiede lui. La risposta è perché lo dico io, punto. Questa è la vendita. La vendita è perché lo dico io. Fine. Qualunque altra argomentazione più lunga di questo perché lo dico io, vuol dire che ci sono dei problemi. Sembra un'esagerazione, magari, la prima volta che sentite questa cosa, e non lo è, non lo è, ok? Non lo è. Il problema è che ovviamente quando io non sono un'autorità devo argomentare, ok? Devo parlare, devo spiegare, ok? Ma le persone, in realtà, imparerete, ragazzi, in questi quattro giorni, che non vogliono le vostre spiegazioni. Tutte le nostre spiegazioni, più le spiegazioni sono tecniche, per esempio, più le spiegazioni sono lunghe, più le spiegazioni sono elaborate, più in realtà per i nostri clienti sono un problema, perché il cliente non capisce mai quello che gli diciamo, non perché è scemo, nel senso che esistono delle problematiche reali per le quali il cliente non è noi, il cliente non ha la nostra competenza, il cliente non ha idea, si vergogna anche a dirci che non capisce tante volte quello che gli diciamo, perché se fosse noi sarebbe al nostro posto, ok? Però il cliente ha paura, va in ansia, non è in grado di prendere una decisione, adesso vi spiegherò perché, e quindi l'unica cosa che sa fare è continuare a manifestare la sua insicurezza, i suoi dubbi, continuando a fare obiezioni, fare domande, fare obiezioni, fare domande. Se io vado dietro al cliente in questa strategia, obiezioni, domande, obiezioni, domande, io rispondo e spiego e argomento, e spiego e argomento, e spiego e argomento, e tante volte non ci saltiamo fuori, perché è semplicemente il continuo fare domande da parte del cliente, non è che sia necessariamente un segno di interesse, perché il cliente ha altre cose da fare nella vita. Il continuo fare domande da parte del cliente è un segno di apprensione, è un segno di paura, è un segno di insicurezza, è un segno di ansia, è un segno di indecisione. Durante una trattativa, e se avete fatto il corso, ok? Venitore e Vincente, i materiali precorso, che sono poi in realtà il corso di base, sapete che le domande in trattativa le faccio io, non le fa il cliente. Se faccio io è una trattativa, se le fa il cliente è una manifestazione di problemi. Il cliente non dovrebbe fare domande nel limite del buonsenso, non deve esagerare, perché non può fare domande al cliente, ok? Però se ogni cosa che dico corrisponde a tre domande di rimando, indietro questa cosa è un problema. Quindi il riuscire a dire, fai questa cosa perché lo dico io, punto, questa cosa è essere l'autorità. Questa cosa è l'autorità. E il dato importante è riuscire a arrivare in questa condizione. E non è una condizione che si fa schiacciando un pulsante, non è una tecnica, non è una cosa, faccio una cosa ed ecco che la gente obbedisce. Ovviamente è riprogettare, come già vi hanno detto un po' i ragazzi, da zero, il mio modo di intendere la vendita. Quindi richiede tempo in realtà. Esiste un durante la trattativa, quando parlo con le persone ovviamente, quindi che siano loro che vengono da me, che sia io che vado da loro, che ci incontriamo online, è uguale, c'è un momento nel quale stiamo discutendo. E lì andremo a vedere come lavorare sull'autorità, ma lì è già tardi. Se io non ho fatto tutto un lavoro importante, prima. Quindi esiste un durante nelle trattative ed esiste un prima. Il prima è il luogo ideale nel quale costruire l'autorità. Se io non costruisco autorità prima di arrivare a contatto con il cliente, è molto difficile riuscire a fare una buona trattativa. Cioè posso farla se sono bravo, certamente è sua esperienza, non è che sono uno stupido, non è che voi non abbiate un'azienda, non è che per quanto piccola, media o grande, cioè non è che non sia già un'azienda bellina, non è che non sappiate fare le cose, questo non è il vostro primo giorno di scuola, siete tutti imprenditori a livelli diversi, tutti in gamba e tutti che sanno fare bene le cose. Da saper fare bene le cose, ragazzi, a scalarle veramente verso l'alto, dovete mettere un turbo molto importante all'azienda. E questo turbo è l'autorità. L'autorità vi serve da declinare sia durante le trattative, ovviamente, sia dovete imparare come si produce, per esempio, contenuto, quindi come si scrive copy con lo scopo di generare autorità e non semplicemente per vendere, quindi copy persuasivo, ni, copy per generare autorità in primis, meglio, così come le campagne di marketing, la vostra lead generation può essere fatta per generare autorità o può essere fatta semplicemente per vendere. Se la fate semplicemente per vendere, come fanno tutti, sprecate un sacco di soldi e le campagne rendono molto meno. Quindi più generate autorità, meno vi costano le campagne, più in realtà guadagnate, più fate clienti, più avete margini, meno avete problemi nella gestione, per esempio, del cliente. Ok? Quindi andiamo a vedere come si costruisce, quindi per blocchi, l'autorità. Allora, partiamo da un grande esperto di marketing, che era questo tizio, purtroppo, e Joseph Goebbels, che era il propaganda minister, quindi è il ministro del marketing del Terzo Reich, che era tendenzialmente, affermava questa cosa. Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte e diventerà una verità. Quindi questa cosa, purtroppo, è vera. È vera in senso positivo, ma è vero anche in senso negativo. Ok? Quindi esiste un tema per il quale, se voi volete diventare un'autorità, dovete innanzitutto scegliere qual è, non quella bugia, possibilmente, ma quella affermazione. Quindi il vostro punto di forza, la vostra idea differenziante, ciò che vi caratterizza, la vostra focalizzazione, quella che chiamiamo il nostro posizionamento. Perché? Perché se voi non costruite un posizionamento con un focus molto preciso, molto fine, tutti i vostri messaggi saranno molto diluiti. Perché? Perché io non posso, ragazzi, semplicemente creare un'idea differenziante, farla accettare al mercato, se la dico una volta, o se la dico sul mio sito. Cioè, se sta sul mio sito, se sta sui miei materiali di marketing, non è interessante. Quindi qualunque sia la mia dichiarazione di intenti che io faccio in termini di posizionamento, io ho bisogno di avere un unico messaggio e quell'unico messaggio deve essere ripetuto centinaia, migliaia, milioni di volte. Centinaia, migliaia, milioni di volte. Affinché diventi qualcosa di reale nella testa delle persone. Più voi siete defocalizzati, più dite tante cose diverse, più in realtà è impossibile creare autorità. E' impossibile, perché i vostri messaggi sono troppi, quindi sono diluiti, sono, è come il liquido, no? Cioè, esiste il liquido concentrato, se ci metti l'acqua si diluisce, ovviamente, no? Bene. Per diventare un'autorità voi dovete essere il prodotto più concentrato possibile. Perché? Perché dovete scavare nella roccia e dovete ottenere un effetto penetrante nella testa, nella mente delle persone. Ok? Quindi, se questa cosa vale con le bugie, a maggior ragione vale per la verità. Quindi il vostro posizionamento, che dovrebbe essere verità, detta in maniera intelligente e detta bene, ha l'unica possibilità di funzionare se il vostro messaggio è specifico, è unico, è univoco e siete in esubero di comunicazione. Non ve lo potete dire tra di voi in azienda, ok? Per raccontarvelo in azienda. Dovete costantemente comunicarlo. Quindi la quantità della comunicazione su un focus è fondamentale per ottenere autorità per le persone. Perché il cervello umano è fatto così. Il cervello umano è debole. E perché su di noi, per esempio, l'autorità sull'essere umano ha così tanta importanza, ha così tanta efficacia, tanto da rendere delle persone, uno se ci pensa con gli occhi del buonsenso della storia, uno dice ma com'è possibile che un popolo abbia fatto sto casino, cazzo, come ti viene in mezzo? Sarà stata della brava gente? Qualcuno avrà detto che cazzo stiamo facendo, no? In teoria sì. In pratica l'effetto dell'autorità ha il potere di fare ottenere un controllo e un dominio totale sulle persone, anche nel fare cose brutali, sciocche o orribili, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo andare in questa direzione, chiaramente, ok? È solo una prova del fatto di quanto può spingere l'autorità nel riprogrammare in realtà i comportamenti delle persone. L'autorità è questo, l'autorità è molto più forte del marketing, in realtà è sopra il marketing, perché l'autorità riprogramma i comportamenti delle persone anche quando partono da convinzioni diverse. È una cosa incredibile. Noi italiani, uguali, ci siamo passati nella stessa maniera, no? In Spagna, qui sono i nostri amici, anni dopo hanno avuto Francia, cioè tutti i nostri popoli hanno avuto delle cose che se noi ci giriamo indietro e diciamo, ma che cazzo, come abbiamo fatto, no? Ad avere questa gente qua. Invece l'abbiamo avuta. Adesso vi spiego perché. Il motivo è questo qua. Questa immagine. Questa immagine rappresenta un fenomeno importante che voi dovete conoscere come concetto che si chiama neotenia. Che cos'è la neotenia? La neotenia è la permanenza negli adulti di qualunque specie animale, compreso l'uomo, dei tratti infantili. Come se guardate queste due immagini, queste due immagini sono uno scimpanzee, ovviamente lo vedete sulla destra, completamente adulto e formato, e sulla sinistra invece vedete il piccolo, il cucciolo di scimpanzee che come notate invece sta dritto, ha la faccia piatta come noi, quindi ha il muso corto, ha gli occhi grandi, ha la testa rotonda. Guardate come si sviluppa la sua figura. Il cervello si restringe, il muso si allunga, gli occhi si stringono, non ha più il naso come il nostro. Quindi se voi guardaste l'immagine a sinistra sembra un bambino tendenzialmente. Quando si sviluppa diventa un animale completamente diverso. Quindi gli scimpanzee per esempio che sono vicini al nostro genoma al 98,99% non posseggono la neotenia. La neotenia è una caratteristica degli animali di una parte specifica degli animali in realtà. La neotenia permane solo negli animali domestici e negli animali addomesticati. Ad esempio il cane è neotenico. il cane rispetto al lupo che sarebbe l'animale vero è neotenico è un animale domesticato ha il muso più corto ha le orecchie basse tipiche dei cuccioli ha la coda arricciata tipiche dei cuccioli e il comportamento quando voi amate i cani in realtà amate non un animale completamente formato ma lo amate perché in realtà anche nell'animale adulto permangono quelle sue caratteristiche tipiche del cucciolo quali sono in termini cerebrali le caratteristiche tipiche di un cucciolo neotenico per esempio come imparano i cuccioli di animale a vivere come imparano in particolare i mammiferi perché di questo stiamo parlando a vivere imparano le attività attraverso il gioco il cucciolo gioca l'adulto non gioca più l'adulto vive impara fino a un certo momento e poi da un certo momento in avanti diventa adulto e deve vivere deve cacciare si deve difendere deve fare le cose che hanno a che fare con la sua vita nell'essere umano questo salto non esiste in realtà esattamente come nei cani che sono dei lupi che rimangono cuccioli tendenzialmente tutta la vita poi a seconda delle razze potete guardarlo anche su wikipedia sono informazioni comuni sono i cani che mantengono arrivano a uno sviluppo di un lupo di due mesi a un lupo di quattro mesi a un lupo di sei mesi a un lupo adolescente fino a cinque livelli in realtà di neotenia addirittura nei cani nell'uomo è addirittura peggio nel senso che per noi noi abbiamo l'uomo gioca tutta la vita agli hobby allo svago e perché? perché in realtà il cervello dell'uomo rimane plastico e rimane aperto alla possibilità di continuare per esempio a imparare tutta la vita quindi è un vantaggio da un certo punto di vista evolutivo perché da un certo modo tu sei capace di continuare a imparare a prescindere dall'età mentre negli altri animali questo non accade il problema l'effetto collaterale della neotenia è che noi non diventiamo mai realmente adulti avete mai sentito la sindrome di Peter Pan no? ok ma non è una cosa strana è perché l'uomo è progettato per essere così l'uomo è progettato in realtà a meno che non venga indurito dalla vita in momenti molto duri storici eccetera eccetera a rimanere un eterno ragazzino e quindi l'uomo essendo neotenico rimane suscettibile e rimane come tutti per esempio gli animali domestici e domesticati noi abbiamo per esempio nel nostro genoma sapete per esempio che noi abbiamo noi non discendiamo in realtà dalle scimmie noi abbiamo un parente comune con le scimmie dal quale poi si sono divisi i sapi cioè gli uomini gli ominidi e le scimmie il problema è che non si trova tra virgolette l'anello mancante della catena tra l'antenato comune che avevamo con i primati tendenzialmente e noi perché cambiano i propri cromosomi in quel cambio in questo anello mancante molto probabilmente è quell'anello mancante nel quale noi abbiamo sviluppato si è sviluppata la neotenia che i primati non hanno portato avanti noi abbiamo portato avanti questa cosa quindi ci ha reso più intelligenti perché il nostro cervello continua a imparare però il problema è che ci rende suscettibili suscettibili impressionabili e essendo per esempio perché il cane vi ama a differenza di un lupo il cane vi ama perché è un cucciolo tutta la vita e vi associa alla mamma tendenzialmente è diverso dalla struttura gerarchica del capobranco l'alfa nei lupi non è la stessa cosa il cucciolo proprio vi associa alla mamma quindi ai comportamenti di affetto totale come se fosse costantemente un cucciolino di 2-3-4 mesi per questo il cane quello che voi dite il cane mi ama certo vi ama in maniera viscerale perché vi ama come un cucciolo ama la mamma negli animali nei primissimi mesi e quindi l'uomo tutta la vita ha bisogno di questo surrogato tra virgolette di figura paterna che gli tolga il bisogno di confrontarsi con il mondo che è brutto e duro e difficile ad esempio noi come le mucche sono neoteniche avete mai provato quando si dice lo sguardo bovino è sbagliato lo sguardo bovino ce l'ha la mucca domestica ma se voi provate a guardare un bisonte non ce l'ha lo sguardo bovino quello è incazzato come una pantera ok le pecore soffrono di neoteniche se voi guardate un agnellino e guardate la pecora adulta sono uguali lo stesso animale semplicemente si è sviluppato di volume come noi siamo identici non c'è una trasformazione dal cucciolo di lupo al lupo che è completamente diverso il cane per esempio che è neotenico abbaia il lupo non abbaia perché l'abbaiare è tipico del lupo cucciolo e smette quando è grande perché dopo diventa adulto dopo ti punta ti ammazza non abbaia l'abbaiare è sintomo di paura è la paura che porta il cane ad abbaiaare perché è un cucciolo e perché? perché tutti gli animali neotenici hanno nel DNA una modificazione hanno un gene più sviluppato degli altri che è il gene della paura noi siamo una specie ok? il sapiens rispetto agli animali tendenzialmente e il sapiens come tutti gli animali neotenici ha il gene della paura più sviluppato rispetto a un animale normale tra virgolette ad esempio noi soffriamo di ulcera noi soffriamo di gastrite noi soffriamo di ansia questa cosa nel genere animale non esiste non esiste ok? esiste un libro bellissimo le zebbre non prendono l'ulcera anche se hanno i leoni tra virgolette che li aggrediscono e se le mangiano perché? perché nel mondo animale esiste la paura ma è circostanziata al momento nel quale io ricevo magari sono un herbivore magari ricevo un'aggressione da un carnivoro in quel momento le mie surrenali l'adrenalina mi finge a scappare o a combattere a seconda del caso eccetera eccetera ma finito quel momento finisce lì l'uomo non ha questa cosa noi siamo i più grandi consumatori di ansiolitici antidepressivi gli animali non prendono gli ansiolitici come mai? gli animali non prendono gli antidepressivi perché? perché il nostro gene della paura è costantemente attivato in realtà sovrastimolato rispetto agli altri animali cioè non si spegne mai e un conto è io vedo un leone che mi aggredisce è facile ho paura in quel momento ma il nostro cervello purtroppo vive come quello che voi chiamate c'ho lo stress in realtà lo stress non è nient'altro che paura specifica che io non vedo cioè la zebra vede il leone io percepisco come stressante l'ambiente a 360 gradi la mia vita personale privata il lavoro i clienti qualunque cosa dal mio punto di vista è qualcosa che scatena un pericolo in quel momento io sono stressato divento depresso divento ansioso ok? e ho tutti questi problemi ma non è una cosa normale o meglio è normale per la razza umana in quanto neotenica in quanto noi viviamo in uno stato costante di paura in questo stato costante di paura e di stress noi abbiamo bisogno abbiamo bisogno proprio fisico di qualcuno che ci guidi qualcuno che ci indichi la via qualcuno che dica adesso si fa così ed è per questo che nascono movimenti 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 orribili come il nazismo noi abbiamo italiano abbiamo avuto il fascismo ok? o movimenti come 7 o cose del genere perché? c'è questo guru tra virgolette carismatico che risolve il problema non è il problema di quello che dice ok? perché se voi andate ascoltare uno le ascolta col senno del poise ma che cazzo stava dicendo questo una roba impossibile non è il problema della quantità o della qualità delle informazioni o delle idee la bontà delle idee non è importante il segreto ragazzi che voi dovete accettare come è vero è che le persone combattono disperatamente per avere qualcuno che li sollevi dall'ansia di capire il mondo le persone vogliono banalizzare vogliono una semplificazione vogliono la pillola magica per smetterla di essere paurose di non capire di essere stressate di non sapere come orientarsi di non sapere come scegliere questa cosa è un uomo al comando che dice adesso si fa così nella politica è uguale se ci fate caso è la stessa cosa non è importante che cosa sostenga una persona o l'altra persona perché sostengono tutti cose tendenzialmente diverse ma tutti hanno a modo loro risuonano con una percentuale della popolazione che si incazza anche cioè le discussioni sulla politica tra persone sono anche ruvide perché la gente proprio se le prende a cuore ma è possibile che tu sia così identificato che sei d'accordo con tutto quello che dice un partito è impossibile magari con un'idea sei d'accordo con una no normalmente una persona intelligente analitica razionale così prende cento idee e dice sono d'accordo completamente con dieci con venti così così queste dieci mi sembrano una stronzata le altre ne parliamo invece se voi ci fate caso no perché Salvini è il Salvatore no perché Re sono tutti così cioè la gente si incarognisce questa è la manipolazione a quale siete soggetti costantemente il vostro cervello in quel momento non sta funzionando e il politico in quel momento si appoggia alla neotenia cioè sa che siete dei bambini e che avete bisogno del papà o della mamma che vi dicono adesso fai questo fine noi possiamo usare la neotenia in due modi il primo è sfruttarla come state facendo voi per continuare a imparare tutta la vita ed evolversi e questo è il modo buono l'altro lato della medaglia è diventare in termini sociali simili a cani mucche pecore polli da cortile e conigli perché quelli sono gli animali che soffrono di galline no ma il coniglio la peccola la mucca si compreso il cane quindi socialmente noi possiamo comportarci possiamo usare l'intelligenza la neotenia per diventare più intelligenti o purtroppo possiamo pagarne lo scotto perché diventiamo soggetti a essere manipolati da chi è in grado di crackare il nostro codice comportamentale questo è il problema quindi per questo ragazzi l'autorità funziona l'autorità è riuscire a entrare nella testa delle persone facendosi da guida per queste persone trasformarsi a guida e quindi andiamo a vedere come ci si trasforma in un'autorità allora qui c'è uno studio ok questo è uno studio già del 71 in realtà questa è una revisione perché è una rivalutazione che conferma e approfondisce lo studio iniziale che si chiama Attitudinal Effects of Mirror Exposure cioè gli effetti attitudinali della semplice esposizione cioè di essere esposti a una persona a un messaggio questo studio in pratica cosa faceva e tutti gli studi a seguire dimostrava come le persone gradissero di più sottoposte ovviamente a uno studio queste persone in pratica cosa facevano e gli venivano mostrate in maniera random delle immagini di persone eccetera eccetera e poi gli veniva chiesto quali tra queste immagini o tra queste persone gli piacessero di più quindi di votarle solo che non venivano queste immagini mostrate tutte con la stessa frequenza alcune erano mostrate di più altre erano mostrate di meno le immagini che ricevevano un gradimento maggiore erano quelle che venivano mostrate più frequentemente quindi venivano esposte ok venivano mostrate di più alle persone quindi le persone automaticamente anche semplicemente perché vengono sottoposte a uno stimolo dopo un po' ci si identificano ok e tendono a se non sono completamente lucide come nessuno di noi è mai completamente lucido a identificarsi con quel qualcosa più una persona viene esposta ok più in realtà si identifica con quel passaggio e perché per noi è importante perché torniamo a quello che abbiamo detto prima il messaggio unico e univoco non basta dirlo una volta il mio posizionamento non basta dirlo una volta io ho bisogno di bombardare in realtà le persone con il mio messaggio perché in realtà ci vuole tempo per far sì che il mio messaggio tecchisca non basta dirlo non basta dire sono lo specialista di non basta questa cosa qua ok è un problema anche di base tempo sulla base temporale vi faccio vedere questo ok questo grafico che cosa mostra in realtà mostra la una differenza tra parliamo di campagne marketing per esempio ok così ci capiamo quello che le persone normalmente pensano è vi faccio un esempio con le campagne sul web poi non sono io che ve ne parlerò ve ne parlerà Moreno in questi giorni ma giusto per capirsi ok le persone pensano di ho un budget per esempio per la mia campagna marketing ottengo quei risultati quei lead quei clienti quelle trattative eccetera eccetera se lo raddoppio ok ottengo il doppio dei risultati cioè quindi è come se fosse una cosa proporzionale in realtà non è così non è quindi queste sono vedete people's expectation quindi la riga blu sono le aspettative mentali di una persona quindi questo è il mio budget ok budget giornaliero ok quindi se io lo aumento aumentano anche in maniera proporzione direttamente proporzionale i risultati e purtroppo non è così quindi la maggior parte delle vostre campagne ragazzi molte volte non funzionano non funzionano male perché quando voi fate le campagne marketing soprattutto se non siete un brand forte non avete un'azienda forte alle spalle eccetera eccetera la vostra mentalità o la mentalità anche delle web agency anzi è partiamo piano tra virgolette e con quello che facciamo con questa campagna poi lo rinvestiamo aumenteremo il budget dopo che non è che è sbagliato non è che vi voglio dire che dovete bruciare i soldi facendo cose stupide nelle campagne non è questo ok i soldi di campagna vanno sempre centellinati guardati al centesimo il principio che voglio dirvi è diverso ok il principio è che in realtà non esiste una correlazione diretta all'inizio tra l'aumento del budget e l'aumento dei risultati l'aumento dei risultati in realtà avviene quando di colpo praticamente io posso investire veramente tre quattro volte tanto rispetto a quello che fa per esempio la mia concorrenza ma non solo la mia concorrenza in generale cioè la mia esposizione al pubblico deve essere tanta perché perché qui non è solo un prima io mi sto facendo vedere ma probabilmente mi faccio vedere mi rifaccio vedere e poi faccio retargeting quindi inseguo la persona costantemente perché la persona non è che la prima volta che mi vede o sente o vede o legge la mia idea differenziante dice che figo voglio comprare c'era bisogno di tempo c'era bisogno di martellare quella cosa e quindi più in realtà le mie campagne martellano quell'idea più faccio remarketing più inseguo le persone più faccio retargeting ok quindi li vado a cercare con gli ads i display e tutte le cose che hanno a che fare con le campagne più gli rinvio materiali cartacei più gli invio una cartolina e più gli rinvio una newsletter e più gli rinvio una sales letter e più compaio davanti a loro più questo tempo negli effetti finali mi fa ottenere il risultato perché l'esposizione in realtà della mia idea vincente della mia idea differenziante è la quantità dell'esposizione che fa la differenza quindi in realtà io dovrei stare molto attento perché è importante calcolare bene il budget che io metto nelle mie campagne che non significa bruciare soldi nella maniera sbagliata significa rendersi conto che il presentarsi davanti a un cliente e poi non inseguirlo in maniera corrente e costante è un modo di bruciare i soldi stupido quindi io dovrei fare delle campagne quando per me è possibile avere quel budget che mi permette di essere insistente molto sui clienti non poco non semplicemente presentarmi non essere semplicemente noto ok quindi se lo vado a vedere diventa così vedete questa è la mia la mia spesa quindi quando io spendo male questo è quello che faccio prima una mano le campagne spendo poco una spesa vera a lungo termine ok dovrebbe essere questa i miei risultati partono all'inizio poi le campagne si ingolfano siete sempre sugli stessi pubblici eccetera eccetera smettono di funzionare mentre i risultati a lungo termine quando gli state sopra a un certo momento in avanti ok dopo vedete tipo dopo dieci settimane che è partita una campagna in realtà incrociano cioè vanno oltre il brecchivene quindi in realtà io ho più risultati tra virgolette rispetto ovviamente a quello che sto spendendo quindi io devo arrivare nell'avere questo tipo di campagne non questo la maggior parte le vostre campagne fanno così partono ottengono un minimo di risultati il vostro pubblico si brucia ok e da lì in avanti quello che spendete in realtà smette di spendere perché spendete più di quello che guadagnate quindi le vostre campagne si bruciano anche per generare autorità qui io comincio a farlo nel senso che la mia esposizione a lungo termine è costante fa la differenza nella percezione che le persone hanno di noi quindi se io voglio che le persone comprino il mio prodotto e voglio che le persone prendano per vero quello che dicono e voglio che le persone decidano in funzione di quello che dico c'è bisogno di rendersi conto che serve capitali da un certo punto di vista e serve tempo non esiste nessuna iniziativa one shot che abbia un senso io ho il terrore ragazzi ogni tanto perché sento le persone che mi dicono ah io ho mandato le 6 letter bravissimo ah io ho mandato un libro bravo ah io ho fatto questo non c'è nessuna azione ragazzi che da sola fa qualcosa per voi soprattutto se partite da zero non siete la coca cola non siete la nike ok e nemmeno per loro così ma in generale chiunque abbia un brand non percepito nel mercato ha bisogno di tempo in realtà per far passare quel messaggio sulle persone il problema quindi è visto che io devo comunque metterci tempo devo metterci energie devo metterci risorse devo metterci anche due soldini tra virgolette no per farmi conoscere dalle persone che cosa posso ottenere quali sono i risultati che posso ottenere ok andiamo a vedere quali sono i risultati che io posso ottenere facendo le mie attività per generare autorità ora io posso essere posso essere solo ci sono solo quattro combinazioni ok ora quando voi siete all'inizio normalmente noi siamo io sono non famoso e non ricco che non è una buona situazione diciamo è una situazione di partenza ma non è non è la situazione straordinaria che vogliamo ok oppure quindi questo è se siamo a zero siamo non famosi non ricchi poi cominciamo a mettere i soldi io voglio voglio aiutarvi a capire in quale direzione devono essere messi i soldi ok perché i soldi adesso vi dimostrerò possono essere messi nella maniera giusta o nella maniera sbagliata io posso essere famoso ok posso diventare famoso e ricco e questa è una cosa buona ok oppure posso essere famoso e non ricco e magari a qualcuno fa piacere ma nella media non è una buona cosa oppure posso essere un'autorità quindi posso essere non famoso per come lo intendono le persone normalmente cioè io non ho bisogno di essere famoso come è famoso Brad Pitt ok come è famoso una persona nel mondo dello spettacolo io ho bisogno di essere un'autorità quindi famoso noto nella mia micronicchia nel mio settore cioè per le persone che mi conoscono ok che hanno a che fare con il mio prodotto o servizio non ho bisogno di raggiungere la celebrità mondiale ok o a livello anche nazionale non è bisogno ho bisogno di ottenere la celebrità quindi l'autorità per le persone che hanno a che fare con me ok per il mio pubblico target ok ragazzi quindi non è che voi dovete diventare famosi cioè se noi andiamo ragazzi in voi uscite a cena con me una sera non dovete avere il problema che qualcuno cazzo se siamo in un ristorante ci ferma c'è la frotta dei fans che viene lì e mi chiede gli autografi perché nessuno sa chi cazzo sono ok non è quello il problema però se partecipiamo a un evento di business di marketing di vendita lì sì lì dovreste stare attenti perché siete con me ogni mezzo metro c'è uno che mi ferma Frank una foto Frank un selfie Frank l'autografo Frank per favore questo è lo stesso effetto che dovete ottenere voi cioè non è che vi deve fermare la gente per strada dovete essere famosi nell'ambiente che ha a che fare strettamente con voi con la vostra micronicchia ok quindi puoi essere autorità e ricco questo sì quindi puoi essere famoso solo per le persone che per te sono importanti ed essere in grado di monetizzare quella cosa adesso vi faccio capire il concetto di base allora questo signore immagino che tutti sappiano chi sia è il Tom Cruise ovviamente no è il il secondo attore più pagato del mondo ha patrimonio personale 570 milioni di dollari ok quindi Tom Cruise possiamo dire che è famoso e ricco ok non so se io riuscirò non è il mio compito farvi arrivare qua se ci arrivate facendo quello che diciamo bravi non ho compito mio ok se arrivate qui bravissimi io non so cosa farci ok oppure potete essere in questa condizione questa ragazza si chiama Alexandra René è un'influencer famosissima ha 2,6 milioni di follower ok e creatrice del brand era quindi lei è una persona famosa ha milioni di follower poi ha provato ha lanciato il suo brand incredibile ok la sua linea di abbigliamento io sono un'influenza io ho i like ho i cuoricini milioni di persone che mi dicono like 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 che bello lancio la mia linea di abbigliamento fantastico ha creato le sue magliette sapete quante ne ha vendute 35 2,6 milioni di lead contro 35 il tasso di conversione non mi sembra straordinario ok quindi non ricco per un cazzo non ricco ok oppure potete avere lei lei è Chiara Ferragni lei è il l'influencer il più famoso del mondo 17 milioni di follower più di quell'altra di prima 17 milioni cioè 17 milioni è uno stato cazzo un piccolo stato 17 milioni di persone ok quindi lei è 17 milioni di clienti famosa assolutamente la Ferragni ha due aziende di cui una quella più grande che fattura di più è social metal 50% 55% ok ha due aziende queste due aziende insieme quindi l'influencer più famoso del mondo perché oggi il mestiere è essere fare l'influencer è il fatturato quest'anno queste due aziende 6,38 milioni di euro di fatturato con totale 104 mila euro di ricavi e significa che se io calcolo i ricavi rispetto a il numero di clienti potenziali che lei ha ha uno 0,0061 euro di redditività per lead per i fan quindi questo è quanto gli rendono i propri clienti e ricca non lo so tra le persone che avete visto prima sul palco c'è qualcuno che se la compra con i soldi che il loro autista dà all'autista non lo so è bravissima ragazzi io non sto non sto criticando la Ferragni non sto criticando la Ferragni ok è bravissima ha fatto un grande lavoro vi sto dicendo che secondo me esiste quello che voglio dire cioè come spunto di riflessione esiste una sproporzione tra la percezione della fama dell'essere noto in tutto il mondo e che cosa guadagni davvero ok quindi secondo me quello che io voglio insegnarvi a fare è essere molto meno famosi ma molto più ricchi questo si può fare ok cioè quello che guadagna tra i due è il marito non è lei poi lei è famosa per l'amore del cielo ma non ci sono soldi li attaccavo sì ha due aziende per l'amore del cielo cioè sono belle non sembra che uno sta sputando addosso a 6,3 milioni fatturato eccetera per l'amore del cielo ok è un bel risultatino ma è una è una è una micro impresa non è nemmeno considerata non arriva nemmeno a 10 milioni non è nemmeno una PMI secondo cioè ha la sua micro impresa brava fa delle cose ma ci sono persone qui che se la comprano con la paghetta tra di voi ok però rispetto a voi lei è osannata in tutto il mondo andate a New York adesso a Times Square c'è un suo cartellone enorme però gli utili sono 104 mila euro boh io 104 mila euro di utili li faccio al 5 di gennaio cioè non so di cosa stiamo parlando perché siamo chiusi siamo chiusi ma non è per farlo scemo è per farvi capire quanto in realtà ragazzi voi in proporzione siete molto più bravi a monetizzare magari perché se fate conto voi non ce ne avete 17 milioni di potenziali clienti che vi conoscono quindi molto probabilmente siete più bravi quindi lei è molto più brava della signorina di prima e probabilmente cioè se lei è la persona che nel suo settore è la numero uno del mondo questo voglio dire secondo me guadagna poco cioè la numero uno del mondo per fame guadagni così cioè allora l'apple la microsoft cioè cosa dovrebbero dire quelle sono aziende questa è un'azienda questa se è la numero uno del mondo a me non fa impressione ok oppure c'è questo signore che non vorrei pronunciare male perché non sono sicuro si chiama Shahrukh Khan che è un attore anche lui ed è molto famoso perché è l'attore più famoso di Bollywood Bollywood è la Hollywood indiana quindi lui non è famoso nel mondo è famoso solo nella sua nicchia in India cioè non lo chiamano nel mondo a fare i film lui fa i film solo in India i film solo a casa sua però questa persona è anche l'attore più ricco e pagato del mondo con 600 milioni di dollari di patrimonio guadagna più di Tom Cruise perché perché Tom Cruise pur essendo bravissimo per l'amore del cielo ha comunque concorrenza cioè nel senso quando devono fare un casting può farlo lui quel film ma ci sono 3, 4, 5 attori magari del suo livello che possono competere quindi qualche film lo vince lui qualcuno lo vince gli altri in India in realtà lui è il protagonista dei film cioè se c'è un film importante c'è un protagonista che è buono figo è più pagato del mondo perché nella sua nicchia in realtà lui non è famoso nel mondo non è famoso come come Tom Cruise voi non sapete nemmeno chi è probabilmente ma è il più ricco di tutti gli attori famosi che voi conoscete se li mangia proprio a colazione e Tom Cruise è un'eccezione per la maggior parte degli attori non ha ovviamente 30 anni di carriera alle spalle ok e la maggior parte degli attori ha dei patrimoni 10, 15, 20 milioni lui ne ha 600 quindi questo si mangia tutti gli attori del mondo facendo film in India perché perché lui è l'autorità quando in India pensano le persone pensano a un protagonista è lui se non c'è lui la gente non va a vedere i film quindi vi auguro di guadagnare così tanto io ancora non ci sono arrivato spero per voi però in generale la filosofia che dobbiamo inseguire è questa quindi lui è sicuramente è famoso è ricco ma anche perché è un'autorità assoluta ok quindi come ci influenza questa cosa dell'autorità in realtà ci influenza perché perché l'autorità serve quando le persone non sanno come prendere delle decisioni allora diciamo che voi vi sentiate male ok e io vi debba portare qualcuno di voi ok vi debba portare per esempio dal medico però il medico si trova subito qua dietro e si trova in uno studio che è uno scantinato abbastanza buio brutto abbastanza sporco e questa persona vi guarda e vi dice che avete un'arteria vi state sentendo male perché avete un'arteria otturata al 90% e vi deve fare un'arteriotomia ok al volo di colpo e voi dovete stringere uno straccio bagnato molto forte con i denti e bisogna operarvi immediatamente perché se no morite questa persona vi dice che vi deve operare immediatamente con quello che ha con quello che può perché se no morite anche se voi siete a rischio morte quando vedete questa persona e la cosa che rispondete probabilmente è vorrei pensarci su un attimo ok o vorrei un secondo parere no però stai morendo in realtà ti dovresti fidare il problema è che se io vi dico la stessa cosa magari vi porto vi dico guarda bisogna portarti d'urgenza da qua in elicottero all'ospedale a Ginevra perché c'è il miglior cardiochirurgo del mondo che è quello che ha operato calciatore famoso persona famosa politico famoso eccetera eccetera voi molto probabilmente salite sull'elicottero scendete e chiedete dove cazzo è il camice buttatemi sotto i ferri vero o no? ok bene questo è l'effetto dell'autorità perché tu non sai non sai realmente in realtà se uno è migliore dell'altro ma scegli automaticamente in funzione dell'autorità che percepisci tu non lo puoi non sei medico scusi ma lei è medico? no quindi neanche voi e quindi voi non lo sapete se un dottore è più bravo di quell'altro quindi voi causa neotenia e causa sensibilità alla paura e quindi all'autorità scegliete in maniera ipersemplificata in funzione di quelle cose che voi percepite come maggiormente autorevoli perché questo è a Ginevra e quindi se è lì e se è lì magari è un corruttore è andato lì con le mazzette magari si è scopato la figlia dell'altro primario e ne ha ereditato il posto magari è figlio di un altro magari è uno dei classici corrotti ha operato tizio e caio eh perché per mille motivi c'è andato lui ma chi ti ha detto che siano andate bene o sia una buona cosa tu non lo sai però decidi in maniera ipersemplificata tu non puoi sapere se un dottore ti salva la vita e quell'altro ti uccide o viceversa ok scegli automaticamente in funzione dell'autorità che percepisci ok quindi autorità è uguale a potere di prescriverti qualcosa il poter prescrivere è l'autorità è fai questo abbiamo detto prima perché lo dico io fai questo perché lo dico io questo è l'autorità quindi qual è il problema ragazzi nostro in particolare è che chi è la persona che ha meno autorità del mondo sapete quali sono le persone che hanno meno autorità nel mondo i venditori i venditori non hanno sono il contrario dell'autorità venditore uguale contrario dell'autorità perché perché il venditore non ti può prescrivere qualcosa è lì per convincerti convincerti contrario di autorità il venditore per venderti qualcosa nei suoi interessi quindi non ha autorità è per quello che la relazione tra un cliente e un venditore è così complicata perché perché il venditore è la persona meno autorevole del mondo appena vieni percepito come un venditore sei finito comincia tutta quella vita difficile quella difficoltà nell'ottenere i risultati che vuoi ottenere appena sei percepito come un venditore la tua carriera di venditore stranamente è difficile è finita e con come faccio a riconoscere un venditore normalmente come vedo come riconosco un venditore lo riconosco perché ha i cataloghi ha le brochure frank merenda è l'uomo che ha stabilito un record dopo l'altro nella formazione per imprenditori autore di best seller come vendere fa schifo se non sai come farlo le sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo e 50 colpi di frank creatore del merenda monthly l'unico mensile dedicato agli imprenditori migliaia e migliaia di imprenditori frequentano ogni anno i suoi corsi rendendolo a tutti gli effetti uno dei più seguiti e pagati formatori in tutto il mondo ha testato le sue conoscenze in centinaia di settori e con migliaia di aziende ha lavorato fianco a fianco con diverse leggende del marketing mondiale ha letteralmente cambiato il tessuto imprenditoriale portando nelle sue aule imprenditori da tutto il mondo è arrivato a riempire un palazzetto dello sport con 5136 persone pronte a studiare e cambiare le loro attività ha costruito in Svizzera il primo e unico centro studi per imprenditori in Europa tutto questo è Frank Merenda e in questo canale di YouTube hai la possibilità di seguire in modo completamente gratuito le sue lezioni iscriviti ora per non perdere nemmeno un video quali sono le armi? come si presenta un venditore? il venditore si presenta con la cartellina con la valigetta la apre e dentro ai cataloghi e dentro alle brochure e ha l'insieme dei prodotti che vengono venduti appena tutti presenti con un catalogo con una brochure abbiamo finito di parlare l'autorità finisce lì appena come fai? si aprite la cartella ecco il catalogo finita questo è il problema quindi cataloghi e brochure cacca pupù no buono no buono ok cataloghi e brochure cacca pupù come si presenta invece un'autorità quindi come faccio io? io devo avere delle armi ok devo essere diverso devo presentarmi in maniera diversa dai clienti e probabilmente le informazioni che deve ricevere su di me o da me prima di incontrarci prima di incontrarci devono essere diverse quindi ragazzi c'è da fare un lavoro prima di incontrare i clienti ai quali noi non ci possiamo sottrarre non è una cosa che potete fare in un giorno o dalla sera alla mattina ma già vi do il piano di lavoro che vi serve per i prossimi mesi per i prossimi anni magari perché poi è qualcosa che non finisce mai ok allora un'autorità normalmente ha scritto dei libri se io non ho un libro non ho dei libri meglio ancora è un problema perché se uno è autorevole nella sua disciplina e nel suo campo ha scritto dei libri dove sono i tuoi libri? se non ci sono i libri e molto probabilmente tu non sei così importante per le persone non sei così famoso perché? perché uno che scrive un libro è un automaticamente deve essere un esperto nel scrivere quel libro ok? se tu scrivi un libro sei un esperto quindi sei un'autorità in quel campo specifico quindi le brochure e i cataloghi devono essere sostituite con i libri per esempio ok? e non è che dovete scrivere dei bestseller poi lo vedremo meglio ok? non è che dovete scrivere dei bestseller come Tom Clancy o Stephen King o Cassino cioè dovete scrivere semplicemente un libro che sia divulgativo ma che sia anche una lettera di vendita in realtà per la vostra azienda il vostro prodotto i vostri servizi ma il fatto che abbia la forma e la struttura di un libro vi rende autorevoli non c'è bisogno che ci sia qualcuno che vi pubblica ve li potete anche autopubblicare ok? non è che dovete aspettare che vi pubblica la Mondadori o Sperling o grandi case editrici ok? però dovete avere un libro ok? se non avete un libro è un problema tra due venditori quello che è il libro e quello che non è il libro quello che è il libro normalmente vince è trattato in maniera completamente diversa il vostro obiettivo ragazzi come imprenditori come liberi professionisti artigiani qualunque cosa vuoi ricoprire è uguale non cambia niente nel settore nel quale siete ok? ognuno di voi ha la possibilità di scrivere un libro esperienziale per parlare ai clienti delle problematiche per esempio del suo settore di quali sono i rischi di quali sono le insidie del proprio settore di che cosa dovrebbe fare in maniera diversa di case history di successo con i clienti di case history invece non fatte da voi sbagliate magari per colpa di approcci tenuti dalla concorrenza a modo diverso di fare le cose eccetera 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 ok? voi dovreste tenere la media di un libro all'anno se non scrivete almeno un libro all'anno non state combattendo con le armi giuste per diventare un'autorità un librino all'anno non è che dovete scrivere mille pagine ok? un librino all'anno 150 160 pagine 200 pagine va bene ok? un libro all'anno vi aiuta a diventare un'autorità ancora potete avere un magazine un'autorità magari ha un magazine o fa parte di un magazine ok? sta su un magazine eccetera eccetera la vostra azienda dovrebbe avere un magazine per esempio non è importante che sia articolato grande pattinato eccetera eccetera come il Merenda Montli magari il mio non è importante che sia una rivista così ok? o come la rivista di Barbecue for All di Gianfranco non è importante che sia veramente così strutturata ok? ma se voi avete un magazine che in maniera ricorsiva esce e viene distribuito a tutti i vostri clienti target quel magazine fa la differenza le persone hanno delle cose di cui parlare ok? quando uno arriva a casa un cliente ma cos'è quella roba lì? ah quella è la rivista dell'azienda che mi serve per o dalla quale vado a comprare questo o che mi aiutano per fare quella cosa non è importante ragazzi che sia Vogue o Ford non è importante ok? che sia a quel livello lì però è importante che sia una produzione costante e che arrivi nelle case delle persone nelle aziende delle persone sulle scrivanie delle persone sui vostri potenziali clienti ancora pubblicazioni in generale un'autorità se è un'autorità viene pubblicato da varie parti online e offline ok? quindi ha citazioni su altri libri ha citazioni in riviste in magazine sui quotidiani voi dovete avere questo dove sono i giornali che parlano di voi dove è la vostra rassegna stampa dove sono i giornali che parlano di voi dove sono i vostri articoli pubblicati su quale magazine ok? dove siete comparsi in quali libri siete citati questo è quello che vi serve solo che dovete scriverle le cose e dovete darvi da fare se volete che qualcuno le pubblichi ok? non è che qualcuno vi viene a cercare quindi siete voi che dovete proporvi le riviste i giornali magazine ok? hanno sempre bisogno di contenuti se voi non vi proponete questi non sanno che esistete cioè non dovete essere timidi questo è un altro passaggio presenze un'autorità ha presenze in programmi per esempio alla radio programmi televisivi ha presenze in eventi ha presenze in fiere ha presenze presso corsi altrui eccetera eccetera dove io posso dimostrare di essere presente per crearmi un'autorità dove sono presente dove mi hanno intervistato dove sono le mie interviste alla radio dove sono le mie interviste anche online podcast blog interviste varie eccetera non c'è bisogno che i ragazzi pensi a devo andare su Rai 1 o Telethink non è importante non è che deve essere una rete nazionale necessariamente non è quello l'importante è che io sia non parli solo nei miei mezzi di comunicazione cioè non parli solo io da solo nella mia brochure non parli io da solo nel mio blog non parli io da solo nei miei materiali di marketing dopo un po' il mio messaggio deve essere riverberato e ripetuto anche da altri e cosa fa un'autorità un'autorità tiene corsi un'autorità poi lo vedremo in maniera molto importante queste sono tutte cose che approfondiremo durante questi quattro giorni adesso ve le presento il modo più veloce per creare autorità da parte di una persona è avere un pubblico davanti e parlare da un palco se avete un pubblico davanti e parlate da un palco fate prima quindi potete fare corsi vostri corsi dal vivo potete essere ospiti di corsi altrui potete essere un keynote speaker cioè fare uno speech a un evento di altre persone altre associazioni di categoria magari dove si riunisce il vostro pubblico target poi mi insegnerò a creare i corsi nella maniera corretta non sono corsi sono eventi tendenzialmente informali dai quali partire nei quali voi potete parlare davanti al vostro pubblico potete fare corsi come prodotti per esempio potete avere prodotti in scatola infoprodotti quindi potete vendere corsi su come si fanno cose nel vostro settore per esempio e attirare a voi un pubblico interessato li potete scatolare possono essere digitali possono essere fisici eccetera eccetera però i più importanti ovviamente sono le pubblicazioni e i corsi dal vivo parlare davanti alla gente vi rende un'autorità è molto più facile vendere a qualcuno se prima se prima lo avete incontrato parlando davanti una folla e poi magari fissate in agenda una consulenza privata che è un appuntamento eccetera eccetera che se lo incontrate e non gli avete mai parlato davanti quindi il vostro lavoro tendenzialmente dovrebbe essere questo ragazzi cioè creare in maniera importante strumenti che vi rendano completamente diversi agli occhi delle altre persone non è solo un problema ragazzi di fare marketing e basta è limitante è limitativo nel senso che è aumentare la portata del vostro messaggio ma il problema non è aumentare spendendo soldi aumentare la portata del messaggio il problema è come viene veicolato questo messaggio c'è un conto e io mi faccio pubblicità e dico siamo qui facciamo questo questa è la nostra idea differenziante veniteci a trovare o scaricate questo file mi va bene tutto un conto e io scrivo un libro e parto a fare il mio funnel partendo da quello un conto io ho un magazine un conto io vengo pubblicato e posso usare guarda io cazzo questo mese sono stato pubblicato non solo le 24 ore strappo la pagina solo le 24 ore ci faccio mille fotocopie e ve le mando a tutti faccio così ok questo è quello che dovete fare voi quindi raccogliere pubblicazioni citazioni presenze siete presenti a qualche parte vi fate dare il filmato e lo usate per mandare ai vostri clienti per fare marketing eccetera eccetera ok se invece che partire a freddo a cercare clienti o inseguirli semplicemente con la lead generation che la lead generation non è a freddo ma la lead generation parte a freddo ok voi prendete le persone e create eventi per esempio questi eventi invitate per partire i vostri migliori clienti e dai vostri migliori clienti fate in modo che vengano accompagnati con ospiti che loro conoscono che potrebbero essere interessati create un evento informale dal quale poter parlare davanti a questa platea di clienti già esistenti e nuovi ai clienti già esistenti rivendete ai clienti nuovi entrate in contatto e poi con l'agendina biglietti da visita fissate appuntamenti con tutti vi assicuro che la vostra trattativa qualunque cosa voi vendiate a prescindere dal settore è in discesa per esempio invece che vado dall'agenzia di web marketing mi faccio fare la lead generation aspetto che i clienti comprano da soli non è lo stesso sport fare lead generation e fare authority marketing non è lo stesso sport non è la stessa cosa vendere con autorità partendo da una piattaforma e vendere semplicemente con i materiali di marketing non è la stessa cosa peggio ancora vendere a freddo completamente del quale io non ne voglio più parlare perché ovviamente è la prima cosa della quale ho cominciato a parlare dieci anni fa e non mi sembra più il caso dove spiegare che non si va a vendere a freddo ok niente porta a porta niente telefonate a freddo mi sembra che non dobbiamo starci sopra al netto di questo quindi visto che in dieci anni le cose sono cambiate anche un po' per merito mio vi svelo il passaggio successivo cioè non è che basta il marketing non è che bastano i contenuti non è che basta che arrivino i contenuti alle persone e poi quella roba farà la differenza certo è meglio che andare a freddo ma il livello successivo in realtà è progettare il marketing affinché crei prima autorità e poi dopo io vado a parlare con le persone o meglio ancora prima arriva l'autorità con gli strumenti giusti e poi arrivano i contenuti quindi l'ordine giusto in realtà guardiamo com'è ce l'ho qua vediamo allora se voi allora una volta com'era si partiva no? aspettate cambio perché questo giallo non mi piace non si legge allora una volta eravamo a freddo no? quindi io a freddo e passaparola cioè gli unici due modi per fare passaparola quindi c'era passaparola i clienti che parlavano bene di me oppure a freddo telefonate a freddo ok? o porta a porta campanelli eccetera eccetera questo è il modo tradizionale che dieci anni fa era ancora in voga poi adesso si fa ridere ma dieci anni fa era ieri per me ok? poi è cambiato il mondo no? e quindi è diventato tutti oggi sono diventati un pochino esperti di marketing quindi a freddo non esiste più e quindi ovviamente diciamo esiste la vendita certamente no? quindi la trattativa tra virgolette il parlare con i clienti ma se è stato fatto un minimo di lavoro è passato il concetto che gli appuntamenti tra virgolette di vendita di consulenza a qualunque livello che io voglia fare nascono possibilmente da un'attività di marketing fatta prima ok? quindi chiamiamo questo concetto in termini pratici per capirsi lead generation ok? esiste una lead generation prima della vendita quindi la lead generation porta alla vendita fino a qua ci siamo tendenzialmente quello al quale non siamo in realtà ed è per questo che siamo qui e lavoreremo questi quattro giorni è che sopra questo c'è un livello superiore che è la costruzione dell'autorità se io prima lavoro per creare con i miei strumenti strumenti per creare autorità dall'autorità io faccio la lead generation dalla lead generation faccio appuntamenti di vendita ancora più semplici detto in maniera diversa l'autorità usa una parola parallela che non è identica ma per capirsi se io ho un brand forte per esempio quando faccio lead generation spendo uno se io ho un brand debole a parità di campagne fatte anche dalla stessa agenzia con gli stessi annunci spendo dieci è una cosa che abbiamo sperimentato noi cioè vi do dei numeri reali ok? cioè quando io faccio lead generation in Italia per farvi capire spendo uno perché? perché sono l'autorità assoluta da un decennio quando lo faccio qui in Spagna mi costa dieci volte di più non perché i ragazzi spagnoli sono stupidi o io sono più scemo non è così è perché qui io non sono un'autorità non mi conosce nessuno sono arrivato due mesi fa abbiamo appena cominciato e quindi certo che otteniamo comunque dei risultati abbiamo fatto un bel evento avevamo più di 80 persone tanta roba ok? però in realtà mi costa esattamente con uno zero in più la differenza quindi nella lead generation è l'autorità se sei un'autorità spendi poco funzionano molto le campagne e la gente si fida e compra subito dove non sei un'autorità e hai solo la lead generation spendi due tre volte quattro volte di più cinque volte di più dieci volte di più x volte di più e comunque le trattative nascono sempre con una base di negoziazione bruttura diffidenza eccetera eccetera perché non sei un'autorità e se non sei un'autorità tu non puoi prescrivere e questa è la differenza quindi anche il marketing è diverso se sei un'autorità o non lo sei e questo è il segreto se non sei un'autorità a parità di copywriting direct response a parità di lead generation a parità di facebook ads a parità di instagram a parità di click per click 4 per click 48 click non lo so come cazzo è non funziona cioè costa molto di più e rende molto di meno quindi in un'epoca dove tutti hanno capito che un po' di lead generation devono farla la lead generation non basta più la differenza il livello successivo è creare autorità per fare marketing per vendere e noi siamo qui per fare assolutamente questa cosa ok quindi ricordatevi ragazzi che quindi le persone non vogliono scegliere ok le persone non vogliono scegliere le persone hanno ansia nello scegliere hanno paura nello scegliere hanno paura di fare la cosa sbagliata sono costrette a scegliere quando non c'è nessuno del quale si fidano ciecamente che gli dice fai così ed è così la scelta per le persone non è libertà non dovete fare filosofia ragazzi no io sono libero di scegliere sì non è sul piano filosofico sto parlando sul piano emotivo concreto reale io quando devo scegliere quando io vado dal medico se il medico mi dice ma guardi lei potrebbe prendere la pillola gialla la pillola verde o potrebbe prendere anche la pillola blu cosa dice io che cazzo ne so e lei il medico me lo deve dire lei cosa devo prendere o no o no bene quindi questa è la dimostrazione che le persone non vogliono scegliere sono costrette a scegliere cioè se a me piace una cosa non è che scelgo mi piace quella e l'altra non sto scegliendo cioè l'altra non la voglio fine ma quando sono davanti a cose che non hanno a che fare con la bellezza o col gusto personale e io non so quindi che cosa è meglio per me scegliere per le persone è un trauma le scelte portano ansia le scelte portano paura le scelte portano insicurezza le persone non vogliono scegliere le persone vogliono lo scemo col braccio alzato che gli dica zazà facciamo questo anche se il fare questo è fare uno sterminio di massa è brutto da dire alzato ma è così le persone non vogliono scegliere le persone pur di non scegliere esterminano popoli è la storia che lo dimostra non sono io non sto esagerando pur di non scegliere pur di avere uno che gli dice si fa così usciamo da questa situazione così usciamo da questa crisi così seguitemi e tutto andrà bene esattamente come il cucciolo segue la mamma perché siamo neotenici il cucciolo non vuole scegliere il cucciolo vuole seguire la mamma cosa fa il cucciolo? segue la mamma no? gli uomini sono identici solo che sono così tutta la vita e tutte le volte che qualcuno è in grado di mettersi davanti e guidarli le persone non vogliono opzioni per esempio le persone vogliono certezze e le vogliono da te guardate ragazzi questo è un passaggio importante perché richiede un'assunzione di responsabilità come professionista come imprenditore come venditore molto forte è accettare qualcosa che normalmente le persone non accettano perché il venditore è stupido ma io devo solo mostrare i prodotti e poi la persona ha il diritto di scegliere certo che la persona ha il diritto di scegliere e che non vuole farlo tendenzialmente io quando ho un problema non vorrei scegliere io se ho un problema in casa qualunque cosa scema un problema idraulico io non vorrei non capisco un cazzo io di idraulica non vorrei scegliere vorrei una persona che mi dice questa cosa la mettiamo a posto così e fine poi invece arriva l'idraulico mette a posto dopo due giorni torna a gocciolare la roba è chiaro che mi incazzo ragazzi le persone non vogliono scegliere io quando vado al medico non voglio scegliere voglio che sto male non voglio scegliere io che cosa fare vorrei che lui mi dicesse che cosa devo fare e possibilmente che sia una persona competente perché se non lo reputo un medico specializzato con un curriculum in certo livello eccetera eccetera dico nemmeno con lui basta voglio un secondo parere le persone non vogliono opzioni le persone hanno un problema un forte desiderio e vogliono possibilmente la mamma che gli dice fai così fine il problema si risolve così o questo desiderio si risolve così un'autorità che gli dia una certezza e le vogliono a te se tu non gliele dai qual è il più grande errore ragazzi che può fare un venditore abbiamo visto prima il più grande errore che può fare un venditore è avere un catalogo per esempio abbiamo detto cosa c'è nel catalogo nel catalogo ci sono vari prodotti o vari servizi ok vari modi di le persone non vogliono vari modi di le persone vogliono che tu gli dica devi fare questo perché perché lo dico io e va bene così ah va bene se lo dici tu me lo garantisci sì sicuro sicuro sì cioè se lo dite è proprio perentori con il tono di voce anche giusto quindi è un problema ragazzi di decisione se voi proponete più soluzioni contemporaneamente state rovinando la vendita siete tutto tranne che un'autorità nessuna autorità dice potresti fare questo o questo o questo non sei un'autorità sei una brochure umana sei un presentatore di prodotti o di servizi segnatevi questa cosa voi non potete dire potresti fare questo o questo c'è solo un'eccezione che adesso vi spiegherò fra un attimo ma non è quella che fate voi cioè non è un'eccezione tra soluzioni diverse non puoi essere un'autorità se proponi soluzioni diverse per le quali c'è un o o o o tutte le volte che voi dite o o o non va bene è sbagliato sempre a prescindere le persone non vogliono opzioni le persone vogliono sapere cosa devono fare vogliono una certezza il problema è che la possibilità di dire alle persone devi fare questo perché lo dico io ok te la devi guadagnare ragazzi potete spegnere i telefoni cortesemente grazie e te la devi guadagnare non è gratuita ok e quindi c'è un lavoro da fare prima cioè non è che domani mattina uscite dai clienti oh stronzo così è zitto ecco non sto dicendo questo vi sto dicendo che però dovete arrivare tra virgolette al livello di prescrizione non potete arrivare al livello di prescrizione tra le altre cose per esempio e poi le vedremo se non avete fatto per esempio al cliente sufficiente domande esiste tutto il manuale di base che avete ricevuto il modulo di base venditore vincente e lì non ve lo sto a rispiegare quella roba ok lì trovate tutto il percorso che dovete fare per costruire un dialogo per costruire una serie di domande risposte in ordine logico e cronologico che vi permettono di capire che cosa è meglio per il cliente voi non potete prescrivere finché non avete capito quindi non si fa nessuna proposta finché non avete capito e se avete nella vostra testa voi un dubbio fra due o tre soluzioni la soluzione non è dire al cliente de-responsabilizzarsi dire al cliente ma puoi scegliere questo o questo o questo no è continuare a fare domande più approfondite finché voi non capite ah ho capito perfettamente allora questa era buona ma non è perfetta perché per te è questa quindi devi continuare a chiedere ed approfondire con un ciclo di domande e risposte finché tu non stai giocando a ve lo ricordate indovina chi ok quando tiravamo giù le facce biondo e blu ok è uguale se tu devi continuare a tirare giù opzioni finché non ne rimane solo una come si fa come si faceva indovina chi c'ha il cappello c'ha i baffi continuate a fare domande finché non riuscite a dividere cosa è più corretto per una persona tra una soluzione e quell'altra non c'è un momento dove potete tirare il freno a mano e dire alla persona boh che ne so io scegli tra questo come fate a essere autorevoli dov'è l'autorità come fate a chiedergli soldi dopo è chiaro che la gente si incazza è chiaro che la gente ha dubbi è chiaro che la gente ha ansia voi siete il primo che gli mette l'ansia questo è già neotenico già prende l'oxanax per i cazzi suoi vi ci mettete pure voi porca puttana con o questo o questo o questo ma la gente non compra e grazie il cazzo che non compra ti ci metti pure te già quello c'ha i suoi cazzi della scimmia che abbiamo visto prima lì ci metti mancavi solo te già non gli è venuto il muso lungo gli è venuto la faccia piatta in più tu aggravi questa situazione quindi no certezza è uguale ci penso vi dicono ci penso ogni tanto i clienti sì non è colpa dei clienti provate a pensare che cazzo gli avete offerto oh 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 che cazzo state a fare mica il balletto oh 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 siete degli esperti dovrete dirgli fai così se non siete voi i primi a dirgli è chiaro che mi dice ci penso poi è chiaro che se ci sono altre cose fate male in trattativa eccetera eccetera ma di base nasce dal fatto che sono io che ho generato dubbi paure e ansie se voi generate dubbi paure e ansie il ci penso è la base poi da lì discutiamo ma se partiamo dal ci penso è un problema se non date certezze c'è una richiesta ovviamente di sconto lo sconto deriva un'autorità non riceve richieste di sconto mai mai o se le riceve le riceve in maniera blanda in un termine ma non è non è il fattore cruciale per chiudere o meno il proprio servizio il proprio prodotto una trattativa un'autorità la paghi chiedi per favore chiedi permesso chiedi quando ha tempo e paghi subito no post datato 60 giorni riba a fine mese sto cazzo mandi soldi e poi ci vediamo funziona così se non sei un'autorità non puoi permetterti di farlo perché? perché sei nello stesso cesto di mele delle altre mele e quindi normalmente ti chiedono lo sconto non vuoi fare sconti o li vuoi fare con un range lo usi tu la scontistica per fare un minimo di trattativa vuoi decidere tu come usarla devi essere un'autorità se non dai certezze o o o sconto è una richiesta no certezze compro magari da uno meno bravo di te ma che è più sicuro semplicemente perché la gente ve l'ho dimostrato prima non sa decidere la gente non è in grado di decidere tu magari avevi una soluzione più adeguata avevi una soluzione perfetta per lui avevi una soluzione più precisa per lui ma non sei un'autorità non hai lavorato per niente per costruire questa autorità e in più quando vai a vendere dal vivo nel durante quando fai la presentazione sei tutto un ma si potrebbe vediamo vedremo forse è possibile ma se vedremo se sarebbe possibile nessuna autorità parla così ma cioè il dottore vi parla così quando vi parla avete mai sentito uno in pronto soccorso ma vedrei non vedrei sta morendo bisogna fare qualcosa adesso ok voi non potete parlare così col cliente perché se voi non siete i primi a essere sicuri a trasmettere determinazione a trasmettere sicurezza a trasmettere certezza a trasmettere cioè voi dovete guardare il cliente ed essere certi granitici sul fatto che quello che gli state dicendo è la verità punto e c'è solo quella cosa lì dovete essere così perentori quando dite una cosa cioè è la vostra postura che dice non c'è discussione su sta cosa siamo messi un punto e punto poi puoi comprare o non puoi comprare questo è un altro paio di maniche che vedremo dopo ma nell'atteggiamento finisce lì ok ti devi operare di questo questa è la medicina x giorni di degenza dobbiamo operare d'urgenza poi vuoi morire o vuoi vivere sono cazzi di tuoi non è che ti posso obbligare a metterti sotto i ferri ma nella media questa è l'unica soluzione ma non ci si può fare diversamente no il no deve bastare non no perché il no deve bastare questo è l'autorità l'autorità prescrive non giustifica non devi se hai bisogno di giustificare un'autorità non si giustifica è così perché è così non è che ti devo fare dieci anni di medicina per convincerti a che ho ragione quindi non si può fare perché la disparità tra la mia competenza tecnica e la tua deve essere così evidente che la persona non si mette a discutere se si mette a discutere vuol dire che la persona non percepisce sicurezza da parte tua non percepisce certezza da parte tua e c'è una mancanza da parte tua sull'aver costruito tutti quegli strumenti che abbiamo visto prima che ci aiutano a costruire l'autorità no certezze compro da uno meno caro per esempio se non sei in grado di prescrivere se non sei un'autorità ovviamente entra in gioco il fatto che io possa comprare da qualcuno che mi fa meno perché non capisco perché io debba fare le cose con te tu mi hai offerto delle opzioni pensando di essere gentile hai fatto in buona fede automaticamente offrendomi delle opzioni ti sei squalificato tu pensi di essere gentile e io penso che tu sia incompetente questo non significa che voi non dobbiate essere gentili con i clienti questo significa che l'offrire opzioni non è essere gentili lasciarli liberi non è essere gentili è creare ansia offrire o o o non è essere professionali e lasciare quel margine di iscrizionalità al cliente è creare ansia paura al cliente è squalificare la propria immagine come consulente come autorità perché se no il cliente se avesse voluto scegliere da solo avrebbe scelto da solo via internet ok non avrebbe chiamato voi se voi siete semplicemente un ripetitore di informazioni sui prodotti non siete utili non si può portare il cliente a scegliere tranne un caso e dopo vediamo quindi come si vende con autorità innanzitutto sono due livelli importanti faccio passare i clienti attraverso gli strumenti che creano autorità li abbiamo visti prima quindi un cliente non deve passare attraverso il marketing non deve passare attraverso le mie campagne non deve passare attraverso i facebook ads non deve passare attraverso i google ads non deve passare attraverso instagram certo che deve passare anche di lì ma non è quello lo scopo lo scopo in realtà è farlo passare attraverso degli strumenti filtro che non è solo un problema di i contenuti che ci sono dentro per me la simbologia di quegli strumenti che crea autorità le stesse informazioni lette su una brochure lette su un libro non sono le stesse informazioni nella testa della persona una cosa scritta sul vostro blog e la stessa roba pubblicata cazzo sul giornale forse anche del quotidiano locale in centesima pagina non è la stessa roba per il cliente porca puttana non è uguale quindi non è solo un problema di copy persuasivo non è solo un problema di contenuto un problema è dove compare questo contenuto e che forma ha questo contenuto questo è il dato che forma ha il contenuto che simbolo rappresenta il contenuto che simbologia il libro è una simbologia dice esperto il mio blog dice è un tizio che scrive roba che se sei il primo ad aver scritto il blog su quell'argomento come la Ferrani sei diventato famoso eccetera eccetera magari va anche bene ovviamente uno strumento da usare non sto dicendo che non è uno dei tanti strumenti da usare dico che non è il primo in ordine logico e non logico soprattutto se sei il centesimo che scrive di quella roba lì online quindi sono informazioni gratuite un tanto al chilo quindi il primo passaggio è la simbologia simbologia degli strumenti che mi creano autorità il secondo passaggio quindi quando le mie campagne hanno fatto passare i clienti attraverso li hanno fatti impattare con cose che dicono o attenzione che questo non è un venditore come gli altri attenzione che questa azienda non è un'azienda come le altre attenzione questo professionista non è un professionista come gli altri poi si passa al livello 2 livello 2 è far passare i clienti attraverso un percorso di selezione un'autorità ha a modo suo e questo è quello che dovete costruire un percorso per selezionare i clienti per farli impegnare nel dover acquistare qualcosa da noi essere immediatamente interessati al denaro del cliente all'affare del cliente dall'altra parte demotiva il cliente essere respingere il denaro del cliente gli fa venire voglia di dartelo più io sono accessibile meno sono un'autorità meno sono interessante più sono available dicono gli americani quindi più sono disponibile per le persone meno sono interessanti questo non significa che noi non dobbiamo essere avere per esempio un servizio assistenza straordinario sono due cose diverse se voi chiamate in azienda da me per qualunque problema e non mandate dei messaggi col piccione viaggiatore ma chiamate veramente il numero verde scrivete un ticket all'assistenza quindi non mi scrivete un messaggio a me in facebook che finisce in spam e quindi non lo vedo se fate le cose normalmente quindi contattate veramente l'azienda tempo 0,5 millisecondi trovate una persona gentile e disponibile che vi risolve qualunque problema alcune volte avete delle persone che vi risolvono il problema senza che vi abbiate chiesto di risolverlo l'altro giorno a Giuseppe abbiamo rimandato noi in omaggio due riviste perché il figlio porre tu le ha strappate Beppe non aveva neanche chiesto niente le stava per ricomprare mi ha detto stai fermo te le mando io noi abbiamo un servizio assistenza che oltre ama cioè anticipa i problemi che possono avere i clienti questo non significa che tu possa parlare con me però per esempio ci sono due linee che sono molto diverse ok quindi c'è un livello di base di assistenza che deve essere gentile e disponibile in tempo reale e poi c'è un come facciamo veramente le cose insieme sono su due piani diversi allora esiste un processo di selezione per esempio il mio qual è il gioco di Frank per esempio il game of Frank allora innanzitutto ci sono degli strumenti se tu vuoi fare vuoi lavorare con me vuoi fare una lezione privata con me una coaching una master ma ci sono degli strumenti dai quali devi passare cioè non è che uno chiama sei passato ovviamente dai miei libri o sei venuto a un corso ok o hai partecipato a una master eccetera eccetera quindi sei passato da strumenti o hai letto il mio magazine o mi hai visto in televisione o hai visto il mio programma televisivo cioè sei passato da uno dei miei strumenti che mi rendono un'autorità sei venuto a un corso quindi molto probabilmente sei in ascension cioè da corso passi a voglio diventare studente privato di Frank non va bene non basta non è che pago mi prenotano no di fare una relazione quindi vieni sottoposto a una relazione adesso sono 40 domande e dispari ok alle quali ti devi impegnare devi rispondere vieni aiutato da uno dei nostri tutor ok però ci sono 40 domande specifiche sul tuo business su come è posizionato su chi sono i tuoi concorrenti su come ti promuovi su quali strumenti su quali canali cioè tutta una serie di cose importanti quindi ti devi impegnare ti devi metterli perché ci vuole tempo per compilarla questa relazione poi non basta non puoi parlare con me ancora quindi prima ti sciroppi tutti gli strumenti che ti fanno dire quando Frank parla io dico sì e sto zitto poi ti fai una bella relazione mi spieghi perché è come messa la tua azienda poi non puoi parlare ancora con me poi mi mandi il bilancio e se non ce l'hai ti rompi i coglioni a chiederlo al tuo commercialista e non voglio il bilancio normale ok io voglio tutti gli strumenti di bilancio perché devo vedere cosa stai facendo non mi basta la roba che hai fatto tu ok quindi voglio lo stato patrimoniale voglio il conto economico voglio il rendiconto finanziario conto economico riclassificato per vendita e non per produzione come è in Italia quindi lo voglio l'anglosassone ti rompo pure i coglioni e ti metti lì lo tiri fuori se il tuo commercialista non è in grado te lo faccio fare io dal nostro team interno però ti devi comunque rompere i coglioni tu e il tuo ufficio amministrativo nel tirare fuori i dati spesso ci vogliono settimane se non l'hai mai fatto se no io con te non ci parlo perché vieni e parliamo di niente non è che sono cattivo è che per il tuo bene tu devi essere il primo che cominci a capire come cazzo funziona la tua azienda e se non ce l'hai e se tu il bilancio non lo sai leggere tu che cosa vieni a parlare con me dovrai imparare quindi ti sforzo ti porto all'interno di un processo nel quale in realtà tu devi fare delle cose e ti devi impegnare per poter comprare da me poi attendi ti metti lì e aspetti metti lì e aspetti perché non puoi venire domani mattina c'è una lista di attesa la media sono tre o quattro mesi ti pronotti adesso vieni a fine febbraio non lo so marzo mi sembra per dire devi aspettare nel mentre che aspetti ti do l'azienda ti dà un po' di esercizi da fare quindi non è che aspetti in realtà è una cosa buona perché hai tempo per mettere a posto tutta una serie di cose quando hai aspettato a sufficienza vieni ok quindi poi dopo possiamo decidere se ci incontriamo oppure rifiuto e ci sono persone sono anche qua in sala dove gli ho detto no noi l'incontro su questa cosa non la facciamo stai a casa fai esercizi su questa roba qua metti a posto il bilancio metti a posto questo fai sta roba quando sei a posto io e te parleremo fino ad allora io e te non abbiamo da parlarci quindi è in realtà far capire alle persone che un'autorità in maniera molto sincera decide se ti può aiutare e prende i tuoi soldi nel senso che ti vende il prodotto ti vende il servizio o no e ti indirizza o da altre parti o a fare delle cose propedeutiche tra virgolette quindi è un processo in realtà ok strumenti poi io voglio una relazione da parte del cliente che mi motivi ad accettarlo poi voglio vedere il bilancio poi aspetti e quindi di conseguenza decidiamo se ci incontriamo oppure no questo è perché io devo devo vedere anche se ti prenoti c'è l'incontro che vogliono tre mesi ma anche per darti la risposta io ci metto tempo perché il bilancio va analizzato la tua relazione va analizzata ci vuole tempo devi aspettare devi attendere ok questo è molto 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 importante questo è il lavoro che dovete fare quindi come potete la domanda ragazzi è questa come potete voi creare una un processo che filtri il cliente sono queste due cose che dovete creare ok quindi vi serve il primo ne basta uno per partire ok il primo strumento e se ne avete già uno decidete di investire sul secondo se avete anche il secondo decidete di investire sul terzo qual è qual è lo strumento che vi permette di cominciare a creare autorità sul quale dovete cominciare a investire appena torniamo a casa il secondo passaggio è qual è il processo che porta le persone a poter avere a che fare con voi tendenzialmente ok quindi c'è un processo di selezione fatto con voi c'è un processo di selezione fatto con un vostro collaboratore con un vostro dipendente con una vostra segretaria ok con un vostro junior secondo voi come siete messi un vostro subagente in ogni settore è possibile creare un processo di selezione per quanto all'inizio non strutturato particolarmente in maniera complessa ma l'importante è che in nuce esista uno di questi passaggi ok in nuce deve esserci uno di questi passaggi quindi il lavoro che voi dovete fare grazie a questo quindi cambiare tutto quindi nella prima parte tra virgolette di questa mattinata l'obiettivo da chiarirvi sono queste due cose ok capire che si vende per autorità e poi si scende al marketing e alla trattativa vera e propria al colloquio vero e proprio quindi la prima cosa su quale dovete puntare l'autorità per puntare l'autorità dovete smetterla di offrire opzioni alle persone ok tranne un caso che vedremo dopo e in generale dovete passare attraverso non apparire come il classico venditore il classico libero professionista la classica azienda che vuole vendere qualcosa ma diventare un'autorità nel vostro settore per fare questo dovete creare degli strumenti e a seguito degli strumenti dovete fare in modo di creare un processo che filtri i clienti e li porti a impegnarsi tra virgolette nell'avere a che fare con voi poi vedremo nel dettaglio come si fanno queste cose per questo è tutto spezzettato e vi insegnerò a fare nel dettaglio l'importante che voi lo chiariate in questa prima orate e mezza che abbiamo fatto insieme come processo cioè per voi deve diventare il processo automatico poi lo spezzettiamo ok ma dovete già avere l'idea di come costruisco questa cosa quali sono gli strumenti e quindi questo è il passaggio una persona vi chiede una persona deve impattare per esempio un processo standard che potete utilizzare una persona deve impattare innanzitutto contro un vostro materiale che crea autorità il vostro materiale che crea autorità facciamo finta per comodità didattica che sia il libro abbiamo deciso ok quindi la persona deve arrivare con voi e vi deve conoscere attraverso un libro la persona deve diffondere ok i referral devono fare conoscere altri clienti attraverso i libri ok la persona arriva a voi la persona vi vuole parlare la persona non vi può parlare perché deve ricevere da voi dice tu non puoi parlare con me in questo momento non è che non puoi parlare c'è il classico atteggiamento corretto dell'azienda ma è ti arriva un paccone entro domani te lo mandiamo via posto te lo passi a ritirare in ufficio te lo portiamo dipende quanto è geolocalizzato ok c'è questo pacco all'interno di questo pacco ci sono tutta una serie di informazioni ovviamente su di noi su come lavoriamo eccetera eccetera e ci sono alla fine delle cose che devi fare delle cose che mi devi dire delle cose che devi compilare le può se avete uno strumento le può compilare online se avete un sito online può scrivere direttamente rispondendovi ok vi può mandare un'email a uno dei vostri collaboratori può andare online o può fare un colloquio con uno dei vostri collaboratori per esempio per parlare di queste cose ok fornendovi dei dati eccetera eccetera una prescrematura al netto di quella prescrematura ok voi vi riservate il tempo per valutare quello che è stato detto incontrare il vostro collaboratore valutare i dati eccetera eccetera e decidete se gli concedete o no per esempio un appuntamento questo è un processo chiaro lineare facile semplice ve lo disegno qua non è detto che debba essere esattamente così è un prototipo sul quale ragazzi voi potete vedete il mio è molto più evoluto però ve ne do una versione più semplice ok sul quale potete cominciare ad aprire la mente e cominciare a ragionare quindi il primo passaggio per esempio è la persona strumento la persona deve impattare su di voi attraverso strumenti di lead generation che però servono innanzitutto per creare autorità e quindi deve fare una richiesta che sia filtrata attraverso quegli strumenti per poterne tra virgolette sapere di più questo strumento deve passare quindi lui richiede ma non può parlare con me riceve un ulteriore livello di filtro questo ulteriore livello di filtro chiamiamolo per comodità didattica in questo momento il nostro pacco che è il nostro paccone di informazioni questo paccone è fatto in due modi cioè da una parte da informazioni tra virgolette che servono ancora di più per vendere per posizionarmi eccetera eccetera a lui ma dall'altra parte contemporaneamente richiede richiede un lavoro da parte sua cioè è lui che deve dare info a me quindi lo faccio sforzare è lui che deve dare informazioni a me ok è lui che deve lavorare indietro quindi queste sono ulteriori informazioni ma devi compilarmi questa check link mi devi spiegare come lavorate mi devi spiegare la tua situazione familiare mi devi spiegare come siete messi ok dobbiamo fare un check un controllo della tua situazione patrimoniale della tua situazione familiare di cosa siete abituati a comprare dei prodotti che avete già acquistato dei servizi che avete acquistato come siete abituati normalmente a risolvere questo problema tutta una serie di domande che vi aiutano a prefiltrare la persona è lui che deve impegnarsi alla luce di queste informazioni ok c'è un contatto con per esempio un mio collaboratore quindi si va successivamente quindi ha un colloquio un precolloquio ok con un collaboratore perché è un precolloquio per esempio con un collaboratore perché? perché io non devo essere disponibile se io sono un'autorità non devi poter parlare con me al volo se vieni filtrato da un mio collaboratore prima è meglio perché un'autorità normalmente ha assistenti no? o fa tutto da solo non è possibile ok? potete farlo anche da solo all'inizio se non ce l'avete usate come mentalità il concetto sarebbe meglio se io riuscissi a mettere un prefiltro tra me e il cliente con un'altra persona quindi ci sono vari livelli di filtro quindi c'è un livello di filtro a livello di strumento è autorità 1 quindi qui è autorità 1 filtro con strumento autorità 2 il pacco noi per esempio nel settore immobiliare con i miei ragazzi cosa facciamo? nelle agenzie immobiliari cosa fa la gente? arriva dentro o chiama ok? ho visto quella casa si può andare a vedere? o entrano dentro le agenzie immobiliari ho visto quella casa si può andare a vedere? però la regola è che non si può andare a vedere niente non si può fare niente cioè la persona riceve immediatamente ok signora vale tutto fantastico certamente si può andare a vedere le vorremmo fare però un regalo perché noi lavoriamo in questa maniera le mandiamo il paccone il giorno dopo glielo consegniamo glielo portiamo a casa eccetera eccetera lei se lo guarda tutto ok? e alla fine di questo paccone ci sentiamo tendenzialmente quindi c'è una persona che fa da spoke person per l'azienda ok? attira le persone l'uomo immagine ok? ricevono il pacco e poi c'è un prefiltro in funzione del pacco per esempio del collaboratore dal collaboratore si decide se lo possiamo aiutare quindi c'è un incontro vero e proprio oppure se non funziona se non lo possiamo incontrare no semplicemente no non possiamo aiutarlo gli spieghiamo perché non possiamo lavorare con lui però ci sono quattro livelli cioè da telefonato appuntamento a freddo o strappato a questo a vendere con autorità ci sono almeno quattro sottostep quindi mentre tutti cercano lead generation per fissare appuntamenti voi non fate questa cosa ok? campagna online per fissare appuntamenti non è questa roba qua è diffusione degli strumenti anche attraverso campagna online poi lo vedremo più nel dettaglio ok? aumento quindi trasfusione al cliente quindi trasfusione al cliente del principio di autorità trasfusione al cliente di tutte le informazioni che gli servono per decidere perché dovrebbe acquistare da me rispetto a chiunque altro il totale no? quindi sono un'autorità ed ecco tutto quello che devi sapere ma ci sono delle cose che io ho bisogno di sapere da te prima di poter valutare di prenderti quindi prima parli con il mio assistente e vediamo se qualifichi e se hai fatto i compiti e se mi convinci tra virgolette se tutte queste cose sono a posto allora parli con me vi assicuro che quando fate una trattativa qua il cliente compra avete un tasso di conversione poi qui viene filtrato già in termini di budget in termini di possibilità di acquisto vuole comprare ora può comprare ora eccetera eccetera se lo può permettere quindi quando arriva qua ragazzi il cliente è chiuso qui siete al livello che la persona viene come quando ha fatto tutta la trafila e arriva finalmente dal medico specialista per farsi dire dottore mi dica cosa devo fare questa è la prescrizione vado in farmacia prendo queste medicine grazie sono 400 euro torni la prossima volta non c'è discussione con il medico specialista solo che il problema è che voi dovete guadagnarvela perché il medico se fatto almeno 10 anni di università e più ha una carriera e più ha una laurea e più ha un camice e più ha una serie di simboli voi che non ce l'avete dovete costruire autorità in maniera artificiale artefatta la dovete costruire ok dopo lo vedrete ma io non sono nessuno non mi interessa l'autorità è autodichiarata non avete bisogno di qualcuno che vi autorizzi vi autorizzate da soli vi autorizzate da soli vi dovete autorizzare da soli con le cose che mi segnerò a fare faccio un esempio noi qua oggi abbiamo ragazzi dall'Italia abbiamo persone dalla Spagna abbiamo persone dalla Svizzera persone dall'Austria abbiamo un ragazzo dove è Antonio che viene dall'America un ragazzo americano Antonio eccolo qua Antonio è venuto dalla Florida per venire a fare il corso con noi è venuto dalla Florida c'è gente che fa i corsi in America? lui è venuto si è preso l'aereo ok è arrivato ieri sera è venuto dagli Stati Uniti per venire a fare il corso con noi ok quindi c'è una differenza importante ok ragazzi solo che la grande differenza è proprio questo passaggio cioè filtrare il cliente affinché venga da voi solo con la voglia di sentire che cosa deve fare essere pronto essere emozionato quasi di venire da voi come io sono emozionato quando sono davanti a un'autorità e non vedo l'ora che lui mi risolva il problema da un venitore vado con l'ansia oddio questo mi vuole appioppare destra sinistra opzioni dall'autorità io vado con cazzo era tanto che avevo questo problema era tanto che avevo questo desiderio magari dall'altra parte ah finalmente lui mi dirà che cosa devo fare questo è quello che voi ragazzi volete ottenere fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero? vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto? allora fai bravo iscriviti ora grazie a tutti